Buongiorno a tutti, sono Rossella, ho 23 anni e amo la comunicazione. Sono appassionata di tutto quello che concerne la formazione e la crescita personale. Per questo motivo faccio parte di SDS Accademia e sto frequentando il corso con già ottimi risultati. Ragazzi, la formazione è importante per la crescita personale, per i rapporti con gli altri, ma soprattutto per migliorare poi su se stessi. Per cui, se l'ho fatto anch'io, fatelo anche voi. Ciao!